Tutto pronto a Venezia per la nona edizione del Salone Nautico, che prenderà il via giovedì 18 marzo al Terminal Crociere. Quattro giorni, fino a domenica 21, per scegliere la propria barca o la rotta della vacanza in charter e approfondire i grandi temi legati alla cultura del mare. A parlarne l'amministratore delegato Giuseppe Mattiazzo. Il giovedì noi abbiamo porte aperte i veneziani e poi abbiamo moltissimi sconti e agevolazioni con banche, istituzioni, organizzazioni. Quindi c'è una vera e importante ampia gamma di sconti per chi partecipa alla manifestazione. Quindi vi invitiamo a venire al Salone Nautico per vedere se le offerte dei nostri cantieri possono farvi acquistare un'imbarcazione, farvi venire la voglia di mare. Il Salone Nautico di Venezia si propone quale simbolo ed espressione della ripresa per il nord-est anche nella nautica. È un invito a riscoprire il mercato adriatico in un momento così difficile per la nostra economia, che ha coinvolto molte attività e anche alcune manifestazioni espositive di settore. Con questa mostra si mettono in evidenza, si espongono quelli che sono i modelli che i nostri concittadini ci chiedono, che i nostri concittadini cercano. Ma non c'è solo la questione della costruzione che sia pur importante. Il nostro territorio è costellato di piccole e medie imprese che lavorano su questo settore. Quello che interessa è anche l'offerta che in questi anni è andata via via ad aumentare. Noi partiamo con un confronto con il Friuli dove ci sono oltre 8.000 posti barca. Nel territorio Veneto noi partiamo da circa 1.000-1.500 posti barca. In questi anni si è andati ad ampliare. Ampliando significa creare occupazione, significa creare ricchezza, significa dare risposta a quelle che sono, come dire, questo che è un nuovo modo di passare le vacanze, sempre importante, che porta ricchezza. Oggi il Salone Nautico Veneziano è il terzo di importanza in Italia e si propone di soddisfare la voglia di mare, di chi ama navigare, a tutti i livelli. Forte la presenza dei grandi cantieri accanto alle barche della cantieristica minore veneziana. Non mancheranno anche un'ampia scelta di usato di qualità. Oggi un'occasione di vero affare per il diportista ed anche uno strumento per accelerare le vendite da parte degli operatori e dei dealers nella stagione preestiva. Grazie a tutti.